Continua anche a Chieti la marcia di Treviso, coach Pillastrini, comunque una partita non semplice come l'ha definita lei stesso prima in conferenza stampa. No, no, una partita difficile, un'ottima Chieti che ci ha messo sempre in difficoltà con un gioco d'attacco pericoloso, è una difesa aggressiva, è una difesa anche che ci ha cambiato tanto, due uomo, zona, passava una zona su dei nostri giochi d'attacco, insomma abbiamo dovuto prendere le misure, io credo noi abbiamo fatto oggi una delle nostre migliori partite e per questo siamo riusciti a vincere, alla fine anche il punteggio si è un po' allargato, ma in realtà abbiamo sempre sentito il fiato di Chieti molto vicino ed è stata una partita durissima. Treviso sicuramente più preciso ma anche meglio in difesa, dove è la chiave secondo Pillastrini per aver vinto questa partita? Nella continuità, era quello che ho chiesto ai miei giocatori, di riuscire nell'ultima partita e avevamo andati un po' a strappi, invece abbiamo giocato soprattutto difensivamente con continuità, non abbiamo fatto correre Chieti, non abbiamo mai lasciato rimbalzi d'attacco con continuità a Chieti, abbiamo fatto errori ovviamente, ma non errori grossolani per mettere a canestro i facci da Chieti, questo ci ha dato continuità e in attacco abbiamo letto bene le varie difese di Chieti, ci siamo costruiti i nostri tiri, siamo anche stati ritrati dalle percentuali, perché oggi abbiamo anche tirato bene, però erano anche tiri ben costruiti. Per voi cos'è un altro mattoncino per la promozione? La promozione è una parola grossa, io non è, per tanto tutti gli allenatori diciamo sempre che cerchiamo di smorzare, ma in realtà è la verità, noi abbiamo un solo giocatore che ha già giocato questo campionato, tutti gli altri sono esordienti, abbiamo ragazzi giovanissimi, quindi non mi illudo che possiamo mantenere sempre una continuità, abbiamo già fatto dei passi falsi, temo che ne faremo ancora, ma cerchiamo di lavorare per non farli, cerchiamo di lavorare partita dopo partita, dico sempre che secondo me la mia squadra ha un talento molto importante, che può competere con tutte, però l'esperienza ce la dobbiamo fare, quindi ce la facciamo di domenica in domenica, poi dopo vediamo cosa ci dice il tabellone, cosa ci dice la classifica, ma dobbiamo avere la grande umiltà di rispettare ogni avversario e di preparare ogni partita al meglio per poi migliorare, arrivare sempre più pronti in una stagione che è bella, perché è difficile e perché ci sono tanti avversari forti.